allora britannia britannia di netflix è una serie tv bella ambientazioni importanti attori anche di livello scenografie costumi insomma sono produzioni di alto di livello si vede che c'è impegno su tutti i fronti sia economico sia di gente di personale di attori importanti parlati praticamente siamo al tempo dei romani che stanno colonizzando il regno unito si stanno inserendo insomma nelle tribù presenti in loco quindi devono conoscere le usanze locali ed arrivano quando il druidismo in fase calante il druidismo appunto questa corrente questo era quello che governava al momento in quel momento la la regione specie di religione insomma in cui c'è nei dolmen appunto c'erano i dolmen qui si facevano sacrifici sacrificavano uccelli ma anche i sacrifici umani quindi sono queste storie di intrighi ci sono i romani che si inseriscono ci sono rivalità tra tribù si vede la potenza militare romano belle immagini belle immagini nella natura varie storie che si intrecciano anche in questo caso comunque è bello mi ritiene almeno per quanto mi riguarda mi ha tenuto abbastanza lì preso a vedere lo svolgersi e lo svilupparsi degli eventi sicuramente ti invito a vederla in basso trovi il link con dove appunto andare tutto garantito 100% mettimi lasciami il like e quant'altro se ti è stato utile ok ciao